4, 3 prima, motore, 18, 2 prima, 1 a 1, terza. Quando si lavora in un laboratorio dove i ragazzi lavorano tra di loro a partire dalla sceneggiatura, dalla costruzione dei personaggi, dall'intrigo, dalla relazione tra di questi, fino alla realizzazione, il set, il montaggio e tutto quanto, è una grande promozione di socialità. Il cinema è sicuramente uno strumento di promozione sociale e anche di riorganizzazione sociale, per cui presumo che il lavoro di camera di specchi possa aiutare in tal senso. Ho sempre percepito questa parte dell'Italia come isolata e nascosta, invece a due passi dal confine c'è un altro universo che va esplorato e guardare gli altri è un altro modo per guardare noi stessi. E questo poi può aumentare la possibilità di raccontare delle storie con il cinema, con la letteratura, con la musica. E questo poi può aumentare la possibilità di raccontare delle storie con il cinema. È davvero bella di essere parte di questo progetto e di vedere e di esperienza lavorare con altre persone, con altre backgroundi etnici e gruppi minoritari all'Europa. So, yes, è davvero bella. Grazie a tutti. Grazie a tutti